Nemmeno il tempo di conoscere gli estremi del cantiere che interesserà via Verci e via Marinali e tra i commercianti della zona è già scoppiata la polemica. Lunedì il progetto di sistemazione di due delle vie principali del centro storico sarà lesonato ufficialmente, ma intanto, già ieri, l'amministrazione comunale ha incontrato residenti e categorie economiche. La voce di una possibile chiusura delle due vie e del trasferimento temporaneo del mercato è già trappelata e tra negozianti e operatori è scoppiata una piccola insurrezione. La preoccupazione inevitabile è che l'apertura del cantiere sposti altrove la clientela.